Fratelli bianconeri e non, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale, grazie. Detto questo, veniamo al video di oggi, e cioè, voi riuscite a vedere una luce in fondo al tunnel? Sapete perché vi faccio questa domanda? Vi spiego perché. Stamattina ho parlato al telefono con un amico juventino e lui mi ha detto Damon, dobbiamo avere fiducia perché prima o poi si vedrà una luce in fondo a questo tunnel e torneremo fuori. Dico, beato te che riesci a vederla anche nel buio più profondo questa luce, perché io non la vedo, cioè io non riesco a vedere un qualcosa di positivo in questa situazione, io non la vedo, per niente. Io vedo una squadra totalmente allo sfascio, un allenatore che non capisce più neanche quanto fa uno più uno, a parte che non so se l'ha mai capito perché per me è troppo incompetente. Ma a parte questo, come fai tu a vedere una luce? Cioè, come fai tu ad avere delle sensazioni positive di rinascita con questa squadra? Avevo possibilità, avevo possibilità se, se, avessimo cambiato allenatore. Allora potevo dire, guarda, facciamo un tentativo e va bene. Ma altrimenti io non riesco a vedere positività. Ma soprattutto una cosa che io non ho mai letto da nessuna parte e non c'è mai, mai una cosa che faccia riferimento a questo. Come mai non c'è nessun giocatore, almeno fino a oggi, che si schieri a favore dell'allenatore? Non c'è una dichiarazione di un giocatore che dica, non è colpa di Allegri, è colpa nostra, niente, non c'è mai una dichiarazione di questo tipo. Perché? Cioè, se veramente questo allenatore fosse amato dalla sua squadra, io penso che dovrebbe, almeno il leader, cioè, almeno facciamolo passare per leader, che per me un leader non è, però facciamo... Bonucci. Mai una dichiarazione col mister, ma... Cioè, non c'è mai nulla. Quindi io mi chiedo, anche per questo motivo, come fai tu ad avere fiducia nella rinascita, nella ripresa di questa dirigenza, di questo allenatore e di questa squadra? Io non la vedo. Ripeto, sarebbe stato un discorso diverso se oggi, dopo la partita con il Monza, subito fuori e chiami Tuchel o chiami Zidane o chi ti pare a te. Allora potevo dire, guarda, ripartiamo da zero e vediamo di rimetterci in carreggiata. Ma io, dopo quello che ho visto, non posso essere positivo. E mi meraviglia che ci sia ancora qualche giornalista, perché c'è ancora qualche giornalista dei più accreditati che sta difendendo questo incompetente. Ancora qualche giornalista lo sta difendendo addirittura criticando i tifosi perché criticano troppo. È il massimo della vita. Allora, quando i tifosi dovrebbero criticare troppo? Quando le cose vanno bene? Critica quando va male un tifoso. No? Quindi questo credo che sia la logica delle cose. Allora, io vorrei vedere se realmente ci fossero speranze in questo. Me lo dovresti dimostrare tu dirigenza. Però nessuno, nessuno che abbia mai fatto dalla dirigenza una dichiarazione in favore di Allegri. Mai. Io non ne ho mai lette da nessuna parte. Cioè, dicono tutti, ah sì, la Juventus sta pensando, dovrà vedere. Per il momento Allegri è ancora fermo sulla panchina. Però non c'è nessuna dichiarazione che vada a tendere a difenderlo. Mai. Giocatori, stessa cosa. Cioè, se io fossi un giocatore di calcio e fossi in una situazione ma il nostro allenatore ha delle difficoltà, ma va bene, ma io andrei a fare una dichiarazione. Direi, signori, guardate, si sono state dette tante cose, si sono dette, ma vi garantiamo noi giocatori che non è assolutamente vero. Con l'allenatore c'è un ottimo rapporto, stiamo passando un periodo così cos'ha, speriamo di riprenderci presto. Magari dici anche una sciocchezza, una balla, però sarebbe un presentare. Come mai nessuno lo fa per conto di questo allenatore? Questa domanda non se la fanno in molti. Beh, io me la sono fatta. E continuo a pensare che per me tra dirigenza, squadra e pseudo allenatore c'è una spaccatura. Per me è insanabile. Per me. Allora io quello che mi chiedo anche è che cosa mi dovrei aspettare io dalla mia dirigenza in questo momento. Perché domani sera, come detto, c'è il CDA. Io credo che alla fine si discuterà solo di soldi per non perderne troppi, ma per il resto non credo che ci saranno boom di sostituzioni di Allegri, non credo almeno. Io penso che Allegri rimarrà fino alla fine della stagione e si accolleranno il rischio. A meno che non ci sia in atto un pensiero alla sosta mondiale, no? Come per dire, alla sosta mondiale mancano 4-5 partite, compreso le due partite col Maccabin. Vediamo come va, eventualmente lo scarichiamo a dicembre. Per me sarebbe una pessima mossa, però potrebbe essere. Allora ripeto, con tutto questo marasma, con tutto questo Aldebaran che c'è, che non si capisce da che parte si va, come andremo a finire, eccetera, perché non c'è nessuno né in dirigenza né del gruppo squadra che faccia una dichiarazione in favore di Allegri? Non ce n'è una. Poi magari sta a vedere che lo dico io e domani esce una dichiarazione in favore dell'allenatore. Perché non c'è uno che lo difenda? Uno. Uno ne vorrei sentire, non ce n'è uno che lo difenda. I media lo criticano tutti, oltre alla società. Alcuni ex giocatori si sono espressi le parole del milanista lì, che adesso non mi ricordo come si chiama, non Ambrosini, l'altro, Tommasi, mi sembra Tommasi che fosse, no, Tommasi è quello della Roma. Vabbè, lui ha detto palesemente certe cose che hanno messo sicuramente Allegri, non in buona luce, ma credo ha giusta ragione, allora quello che mi chiedo io e continuo a chiedermelo e continuerò a chiedermelo, come faccio io, tifoso juventino, ad essere positivo per la ripresa? Cioè, noi alla ripresa, signori, avremo una partita che sarà difficilissima, perché giocheremo in casa col Bologna, che da sempre per la Juventus è una squadra ostica e, anche se non sta attraversando un buon momento, ma con la Juventus di adesso, chiunque può venire a fare manbassa a Torino in questo momento. E la dirigenza pensa che per una settimana di sosta questa squadra si, come posso dire, si maschererà da super squadra, non ci credo neanche se lo vedo, allora perché dovrei continuare a farmi dei film dovendo pensare, dovendo credere alla rinascita? Ma rinascita di che? Ripeto e ribadisco, se io volessi pensare a una rinascita dovrei pensare al perché. quello che è successo non ha comunque uno sfogo, tutto viene chiuso, tutto viene, si vive in un alone di omertà assoluta e nessuno che fa una dichiarazione a favore di questo allenatore. Beh, signori miei, io non so come la pensate voi, ma io due domande me le faccio, perché ripeto, io continuo a ripetere che per me questo allenatore non è amato dalla sua squadra, e per me c'è una spaccatura, che poi la dirigenza voglia provare a portare avanti il discorso, questo è un altro paio di maniche, ma secondo me non è così. Fatemi sapere le vostre opinioni sotto questo video perché sono opinioni importanti, questo credo che nessuno ne avesse mai parlato di questa difesa, tra virgolette, verso Allegri. voglio sentire il vostro pensiero, fatemelo sapere. Ciao.